Siamo arrivati alla tavola rotonda, prego l'amico Alfredo Mantovano di invitare gli ospiti. Buonasera a tutti, io vorrei pregare gli ospiti della tavola rotonda di prendere posto a questo tavolo, il professor Francesco Belletti, presidente del forum delle associazioni familiari, l'avvocato Giancarlo Cerrelli del comitato Sia la famiglia, Raffaella Frullone delle sentinelle in piedi, Filippo Savarese, portavoce della Manifurtù Italia e ultime solo in elenco, siamo molto contenti che siamo qui e le ringraziamo per essere venute dalla Croazia, Mirjana Andic e Celica Marcic, perdoneranno la pronuncia in cerco. Mentre ci predisponiamo a ricevere le macerie delle rappresentanze partitiche dei moderati e dei conservatori, l'attacco viene portato, come tutti ben sappiamo nei confronti della vita della famiglia, viene portato con riferimento quantomeno a due profili di interesse. Il primo di carattere contenutistico, il secondo riguarda gli strumenti che vengono adottati. I contenuti, chi ha qualche anno in più ricorderà i cliché delle gloriose battaglie, gloriose battaglie sono tra virgolette dei diritti civili, un caso pietoso, l'enfatizzazione mediatica, l'intervento di intellettuali di area e magari qualche input di carattere istituzionale. così è diventato legale in Italia l'abbosto. Oggi anche questi cliché vengono riprodotti per coprire un fronte che è diversificato quanto a voce, ma è da leggere in modo unitario quanto a obiettivi. Contestualmente nelle ultime settimane abbiamo assistito alla partenza di una durissima campagna contro gli obiettori di coscienza all'abbosto, con un movimento sincronico tra una decisione del Comitato dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, un caso pietoso, quello della donna costretta ad abortire da sola in un bagno dell'ospedale Pertini, salvo poi guardando il caso concreto ad accorgersi che era accaduto 4 anni prima, che non c'era stata nessuna denuncia, che l'ospedale Pertini ha smentito tutto, e interventi anche in questo caso di intellettuali. Il fine vita, chi si era illuso che ci si acquitasse dall'altra parte sulle già consistenti acquisizioni della giurisprudenza costituzionale, della Cassazione, oltre che del merito, ha avuto invece una sgredita sorpresa nell'ascoltare qualche giorno fa il monitor, cioè le persone normali parlano, il capo dello Stato rilascia un monitor del capo dello Stato, seguito in tempo reale da un editoriale che andava nella stessa direzione sul principale quotidiano italiano. La questione gender, unioni civili, su cui ci si è soffermati maggiormente finora e sarà oggetto anche di larga parte di questa tavola rotonda, che vanno considerati contestualmente perché è sempre più evidente che la funzione della legge sull'omofobia, ce lo siamo detti tante volte, non è quello di tutelare le persone omosessuali da offese che ricevono sul piano fisico, morale, sul piano della libertà di movimento in quanto omosessuali, ma è quella di blindare una futura eventuale legge sulle unioni civili o qualcosa che assomigli, magari anche non chiamandolo così, alla legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, sicché chiunque avanzi riserve su questo fronte va incontro non alla riprovazione mediatica, che è nell'ordine delle cose, ma alla riprovazione giudiziaria che è un po' più ficcante e dolorosa. L'altro profilo è quello degli strumenti, si potrebbe dire non solo di DL Scalfarotto, l'attenzione deve essere postata su un fronte molto più articolato, c'è l'Europa in tutte le sue articolazioni, quindi non soltanto le istituzioni dell'Unione Europea ma anche quelle del Consiglio d'Europa, come ha rivelato da ultimo il caso degli obiettivi di coscienza, c'è in Italia non soltanto il profilo legislativo ma anche quello dell'azione di governo, mentre noi e il Parlamento discute del DL Scalfarotto e del DL sulle unioni civili, la prassi introdotta dalle direttive Fornero è pienamente operativa, si riscontra nelle scuole fin dalle elementari grazie ai testi dell'Istituto Beg e all'iniziativa di tanti altri come quello di tradurre le favole per bambini in un linguaggio gendericamente corretto e c'è il profilo delle regioni che viene chiamato in causa soprattutto per le pratiche abortive anche quelle occulte. È importante avere questa dimensione complessiva dell'attacco altrimenti si hanno delle prospettive riduttive, questo è ciò che accade nel campo avverso. E nel campo dei buoni un anno fa in giro per l'Italia non c'era molto e in giro per l'Europa c'era poco di più. Soprattutto era una sorta di tendenza alla rassegnazione, a considerare in modo fatalistico e ineluttabile questa marea montante. Poi si è colta la portata dell'attacco e si è manifestata la reazione, sia nelle piazze, sentiremo chi sono e come operano le sentinelle in piedi, chi sono e come operano la Manif Portu in Italia attraverso convegni come quello di oggi che non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Ora, oltre la reazione, va messo in evidenza ancora di più il tratto positivo del lavoro che si sta svolgendo e che intendiamo intensificare. Come è emerso prima, nelle relazioni di questa mattina e anche negli interventi del pomeriggio, noi non siamo contro, noi siamo per. Siamo per la famiglia, siamo per una sana antropologia, siamo per il rispetto integrale della natura dell'uomo e riteniamo che questo essere per debba accomunare tutte le realtà che si muovono con generosità su questo fronte. Quelle che si sono svolte finora sono iniziative distinte di formazione culturale, di informazione, di mobilitazione, hanno avuto e stando avendo, come giusto che sia, le forme più varie, lo scopo di quest'ultima sessione del convegno è mettere in chiaro che è dura, è impegnativa, è faticosa, ma si può fare. E quindi con l'aiuto di Dio si deve fare. E un esempio concreto che è dura, è impegnativa, è faticosa, ma si può fare, lo dà una nazione vicina a noi, non soltanto geograficamente ma anche per comunità di fede, di tradizioni, di lingua in certe epoche della storia, ed è la nazione croata. Alla fine del 2013 in questa nazione, l'ultima ad aver fatto ingresso nell'Unione Europea, si tiene un referendum volto a introdurre nella Costituzione la definizione di famiglia come fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. E ciò è avvenuto nonostante i tentativi del governo croato di ostacolare il referendum, nonostante una dura, forte presa di posizione contraria del Presidente della Repubblica croata, posso assicurare ai nostri amici croati che in Italia queste cose non succedono mai, e nonostante le forti restrizioni che la legislazione croata prevede alla raccolta di firme per il referendum, appena 15 giorni per raccogliere le firme, è un equivalente, facendo le proporzioni, è come se da noi fossero state necessarie 11 milioni di firme per il quesito referendario in 15 giorni. Ecco, nonostante tutto questo, le firme sono state raccolte e il sì avvinto col 66% dei voti. Ecco, questa sera noi abbiamo il piacere e l'onore di avere tra di noi due qualificate esponenti del Comitato Promotore, perdoneranno ancora una volta la pronuncia, Celica Marchic e Mirjana Andic, la prima è stata giornalista inviata di diverse emittenti televisive in Croazia e all'estero, attualmente dirige un'azienda del settore medico, da sempre impegnata nell'associazionismo cattolico, è stata la prima responsabile del Comitato Organizzativo del referendum. Mirjana Andic è nata in Bosnia e durante il genocidio dei serbi nei confronti dei croati, nel 1992 è andata in esilio a Pola, in Croazia, diplomata in teologia e filosofia a Fiume e a Zagabria, ha una laurea in diritto canonico alla Pontificia Università della Santa Croce a Roma e frequente alla formazione del cammino neocatecumenale. Allora, ce lo siamo detti prima, privatamente, tra i vari relatori di questa tavola rotonda, noi in questo giro di tavolo diamo per consolidati i principi che sono stati esposti nelle relazioni precedenti. Il tema è che si fa, quali sono le iniziative concrete. E questo tema è da sviluppare tenendo conto che alle 18 sappiamo che cosa si fa in questa sala, cioè si finisce il convegno. Questo è un invito ai relatori a far uso della loro capacità di sintesi che è più che notoria. Allora, c'è un addizionale, essendo due le relatrici del Comitato Croato, sono 15 minuti in totale con l'aiuto delle slide. Prego e grazie ancora per essere qui in mezzo a noi. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Vorrei salutarvi tutti, buonasera dalla Croazia. La nostra iniziativa si chiamava Uimeo Bitelli, nel nome della famiglia, e io sono Mirian Andici. Il contesto sociale in quale abbiamo iniziato questo grande progetto, non sapendo come riuscirà, era prima introduzione nelle scuole elementari e medie, l'educazione sessuale impregnata con ideologia di genere, perché in Croazia il 97% delle scuole sono pubbliche, quindi sono pochissime scuole cattoliche, però i genitori erano contrari, grazie a Dio poi hanno denunciato alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale ha deciso che il progetto del Ministero per l'educazione era contracostituzionale. E poi il secondo motivo perché abbiamo iniziato questo intento per proteggere la famiglia che il primo ministro e gli altri ministri già da tempo hanno pronunziato che dovranno e vogliono equiparare l'unione tra un uomo e una donna, quindi matrimonio con unioni omosessuali. e la dimostrazione in Francia che purtroppo nonostante tanta gente, i milioni di cittadini che sono usciti per la strada, il governo non ha seguito la loro volontà, quindi anche i medi in Croazia erano tutti, avevano tutti, hanno ancora un solo unico scopo, di cambiare il contesto sociale, cioè di equiparare queste unioni omosessuali con il matrimonio e in posizione delle leggi con questo scopo. Come si poteva fare in Croazia? Noi abbiamo pensato che con il referendum si potrebbe proteggere, almeno per un tempo, il matrimonio, perché nella nostra Costituzione non c'era scritto questo, che il matrimonio è soltanto unione tra un uomo e una donna, come esiste, sapete forse molti, come esiste in Polonia, per esempio. E abbiamo fatto un'iniziativa civile nel nome della famiglia. Perché il referendum? Perché assicura che gli elettori possono correggere, in un certo modo, l'attuale governo, che è costituito tutto dal sinistra, e porre il vetto sulle sue decisioni politiche. Perché molta gente non va d'accordo con le decisioni che fa il governo. E questo era un altro motivo. Come ha detto già, le condizioni legislative per arrivare al referendum in Croazia sono molto esigente. Dovevamo raccogliere il 10% delle firme dei votanti. E questo, che devono scrivere il suo nome, cognome, la firma e il codice fiscale, soltanto in due settimane, ma soltanto ai posti previamente registrati e nei comuni e alle autorità di polizia. Quindi era veramente difficile. In Croazia questi 10% erano 375.000. E noi, grazie a Dio, abbiamo raccolto 20% le firme. Iniziativa ha coinvolto tutte le associazioni, non solo cattoliche, tutte le associazioni non governative, familiari, diverse associazioni professionali, associazioni dei veterani di guerra. Poi le famiglie, molti singoli cittadini. Anche abbiamo coinvolto altre religioni in Croazia. Musulmani, per esempio. Abbiamo coinvolto conferenze episcopali croata. Poi gli ortodossi, comunità ebraica e altre comunità cristiane in Croazia. Poi, certamente, senza le preghiere degli istituti della vita religiosa e i monasteri contemplativi non si riuscirebbe a fare tanto e anche i movimenti ecclesiastici sono stati coinvolti. Altri interventi dell'iniziativa, tutti i partiti politici sono stati contattati e soltanto 20 partiti politici hanno sostenuto l'iniziativa. Altri non hanno risposto nulla o sono stati contrari. Abbiamo fatto una richiesta al Presidente della Repubblica di stimolare i cittadini perché abbiamo detto e si sappia che il referendum è un grande modo di dimostrare la democrazia di opinione tutti però il Presidente nostro ha rifiutato di incoraggiare i cittadini. Come siamo stati organizzati? Prima era il Comitato Organizzativo Nazionale dove il Presidente del Comitato è ancora Gelca e altra gente, diverse professioni altri giuristi, le persone normali, i cittadini direi e loro hanno comunicato con le associazioni con le comunità religiose, con i partiti, con i cittadini e poi è stato Comitato Organizzativo Regionale in Croazia sono 21 regioni e io sono stata responsabile per la capitale Zagabria e per gli cittadini croati che vivono all'estero. Così è un panorama di quello dal gennaio da quando si è fatto dire il nome questo Comitato Organizzativo marzo si è costituito poi dal marzo fino a giugno quando abbiamo consegnato tutte le firme al Parlamento durante delle raccolte delle firme questo bisogna sottolineare c'erano tante iniziative anche dei studenti i studenti erano molto attivi nelle università croate e hanno organizzato nelle diverse facoltà dibattiti sul referendum anche sull'importanza del matrimonio nella società croata e questo slogan il matrimonio è la donna più l'uomo tutto il resto è qualcosa diverso in ogni posto dove si raccoglievano le firme c'era scritto questo più di 6.000 dei volontari e maggioranza giovani sono stati coinvolti in questa grande iniziativa questi 6.000 ma ci sono molti di più più di 2.000 posti per la raccolta delle firme e più di 50 denuncia alla polizia per la violenza e attacchi contro i volontari c'erano tanti attacchi, tante violenze e grazie a Dio questo è un altro miracolo che è successo in Croazia nessuno di questi volontari si è opposto alle violenze abbiamo denunciato e basta loro erano educati da noi di non opporsi soltanto di denunciare fare le foto per esempio venivano con il coltello anche quelli contrari e loro hanno fatto le foto e scusate nient'altro e le denunce questo era anche ma era anche pericoloso stare per la strada per tutti i volontari ma tutto è finito senza grande ferite e abbiamo raccolto più di 750 firme dei cittadini e le firme abbiamo consegnato al Presidente del Parlamento Croato 14 giugno 2013 e alcune foto della processione direi è bella anche che è stata una festa della democrazia in Croazia queste colombe sono state liberate davanti al Parlamento come una e adesso e adesso continua con raccontare cosa è successo dopo adesso spero che avete capito come era con il nostro referendum perché per questo corto parte che io devo spiegare ci bisogno ci bisogno di aiuto della intuizione e del santo spirito perché Mirjana ha studiato italiano per studiare filosofia e teologia e io ho studiato italiano per capire le parole dei canzoni del Lucio Dalla ecco ecco in corto noi volevamo fare qualche cosa in Croazia e questo è unico è una ragione perché abbiamo vinto perché volevamo fare qualche cosa proattivo non solamente tutto il tempo stare in difesa spiegare le cose difendere poi fare le dimostrazioni sedere e bere caffè e discutere come è difficile in Croazia perché non siamo liberi perché non possiamo cambiare le cose come sarà il futuro per i nostri bambini no noi abbiamo detto questa volta noi vogliamo fare qualche cosa prima che l'attacco comincia e noi abbiamo fatto qualche cosa seconda cosa che era per noi molto importante è che c'è tantissima gente che pensa in stesso modo come noi e loro non fanno i calcoli per loro non era importante solamente vincere era importante fare qualche cosa fare qualche cosa per sé per le sue famiglie e i suoi bambini noi abbiamo solamente fatto una strada legale abbiamo spiegato come si può vincere come si può fare qualche cosa e loro hanno risposto un milione delle persone in Croazia ha votato sì nella una situazione molto difficile perché? perché volevano contribuire a sua società e loro hanno fatto tutto questo adesso una cosa molto importante era comunicazione verso l'esterno noi abbiamo organizzato degli eventi conferenze stampa ogni settimana dichiarazioni abbiamo preparazioni per le esposizioni preparazioni dei materiali dei videi abbiamo creato una pagina web perché una gran parte del media era contro referendum e questa pagina web e facebook sono stati molto importanti per comunicare i nostri messaggi a tutta la gente in Croazia abbiamo creato un newsletter e abbiamo usato tutti i canali personali per continuare a comunicare solo un messaggio che il matrimonio è fra una donna e un uomo solo un messaggio non abbiamo parlato sull'aborto sul divorzio sul crisi economica sul musica no solo matrimonio se tu pensi come noi che il matrimonio è fra una donna e un uomo sei benvenuto abbiamo fatto una foto del millennio nel Zara dove questa foto era fatta dalle famiglie dei giovani con i bambini questa foto aveva tanto successo e nei numeri avevamo in gennaio 74.000 di likes nella nostra pagina abbiamo fatto 250 ospite dichiarazioni sul radio e televisione e tutto questo che abbiamo fatto sulla televisione e radio non era in un'atmosfera molto aggredabile dovevamo combattere bene contrari al referendum erano tutto il governo non c'è un ministro nel governo croato che non ha spiegato che va a votare contro tutti tutti il presidente della repubblica un gran parte delle associazioni non so se si capisce qui queste sono associazioni non governative però pagate dal governo e controllate dal governo sì tutti i mass media inclusa tv pubblica e noi abbiamo fatto noi abbiamo trovato che 75% delle trasmissioni articoli erano contrari al referendum 75% questo si chiama propaganda 75% 15% neutrali e solo 10% sono stati pro questo vuol dire che un mese prima del referendum nel mondo virtuale della tv e del radio non c'era possibile sentire gli argomenti per referendum un mese questo è il ministro per gli affari esteri la signora stimata signora ha detto nonostante quello che voi pensate dovete votare contro questo questo non 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 è la democrazia che per cui noi abbiamo combattuto in Croazia bene e nel fine primo di dicembre la domanda referendaria era siete d'accordo che nella costituzione della repubblica della Croazia verrà inserita una disposizione che definisce il matrimonio come la comunione di vita tra una donna e un uomo risultato era che 66% quasi un milione favorevoli e 34% contrari e il matrimonio è inserito nella costituzione della repubblica di Croazia il mismo il questo giorno affluenza 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 alle urne era 38% questo vuol dire che per referendum sull'attesione alla Unione Europea ha avuto l'affluenza del 43% e nel questo caso Unione Europea tutti sono stati per questa adesione il governo l'opposizione i mass media chiesa tutti e nel questo caso quando il governo i mass media e i tanti gruppi che in questo momento tengono podere in Croazia sono stati contro questa è un'informazione per noi molto importante tante volte si dice che nelle città vivono i progressisti molto urbani che sono contra il matrimonio come unione tra donna e uomo e questo referendum ha mostrato che in Croazia 120 delle città votavano per il matrimonio 120 solo 8 città in Croazia la maggioranza votava contra il matrimonio come unione della donna e dell'uomo questa è la festa dopo il referendum grazie 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 è un fatto successo adesso non 500 anni fa e quindi è di sprone a ben operare non è presente con noi a differenza dei programmi originari il portavoce della Manif Boutou di Francia sapete benissimo cos'è e quindi non sto a illustrare com'è nata com'è sorta ma ci ha mandato un messaggio registrato che adesso sarà trasmesso nella migliore tradizione della filmografia francese con i sottotitoli con i sottotitoli contro le mariage con i sottotitoli e con i sottotitoli 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 e in se Florida che sottotitoli con i sottotitoli Avoir fuori luna tchèque a è stata messa in place una nuova fuori di route per la LGBT, l'Iglia Europe, che ha legittimato l'octroi di fondi di molti milioni d'euros se si l'on capitalise tutte le ligni budgietta che vanno a decolato allora che il déficit budgietta europeo è di più di 2,5 miliardi d'euros. Per chi e per quanto questi fondi? Perché questo agenda globale, per farlo con il disegno come, come, io cito, le diritto fondamentale delle persone LGBT, per le prossime anni, il lavoro, l'éducazione, la salute, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la competenza dei Stati membri e di soli, e quindi, in quanto riguarda l'Italia. In Europa, tutto come in Italia, questo mostra in realtà che il lobby LGBT considera il parlement europeo come, come un luogo strategico per fare avanti queste cause e ottenere dei modificazioni del diritto europeo e francese. Mes chers 13 amici, vous le savez bien, l'orientation sexuelle d'un individu ne l'empèche pas d'être homme ou femme. Cette vision réductrice ne prend pas en compte toute la richesse des personnes au-delà des comportements ou des rôles. Plusieurs études de genre ont été faites. Elles sont intéressantes pour explorer l'évolution des rapports entre les sexes, la place respective des hommes et des femmes dans l'organisation sociale, professionnelle et politique pour repérer les causes d'inégalité injuste et élaborer des propositions pour les faire disparaître. Les études de genre peuvent être aussi l'occasion de valoriser l'apport spécifique de l'un et l'autre sexe. Mais ces études ont en fait dérivé le plus souvent vers d'autres objectifs. Il s'agit maintenant, en effet, de former les jeunes enfants dès les classes du primaire à une égalité indifférenciée. Ainsi, plus qu'un mot, le concept de genre est l'instrument d'une révolution anthropologique et culturelle de nos sociétés post-modernes en quête d'identité et d'égalité. Sociétés où la raison et la liberté ne s'appuient pas sur la réalité des êtres et des choses, mais sur les désirs et les fantasmes. Sociétés où l'individu, représenté par des lobbies ultra-minoritaires, mais terriblement efficaces, exigent du pouvoir démocratique la reconnaissance de ses revendications, qu'il prétend être de nouveaux droits en imposant de nouvelles normes. Finalement, le concept de genre dans sa forme subversive est le révélateur d'une société qui ne sait plus qui elle est et qui refuse le réel comme limite à ses désirs. À ceux qui jugeraient mes propos trop alarmistes, je me permets de vous soumettre le récent avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France sur cette question. En réponse à une saisine conjointe de la ministre de la Justice et de la ministre des Droits des Femmes, la Commission a rendu le 27 juin 2013 son avis concernant la définition et la place de l'identité du genre dans le droit français et les conditions du changement de sexe à l'état civil pour les personnes transidentitaires. En voici le contenu. Je cite « Consciente de la situation extrêmement précaire et des discriminations notoires dont font l'objet des personnes transidentitaires, la scène CDH s'inquiète tout d'abord de la grande vulnérabilité sociale de cette catégorie de la population trop souvent stigmatisée. Je poursuis « Afin de remédier à cette situation hautement discriminatoire et de redonner aux personnes trans leur dignité, la scène CDH estime nécessaire une refonte de la législation française concernant l'identité de genre comme le préconisent les institutions internationales européennes. La scène CDH qui ne se prononce pas ici sur le plan anthropologique mais au nom de la lutte contre toutes les formes de discrimination demande la rectification des termes identité sexuelle présents dans la loi jugeant qu'ils entraînent une confusion entre genre et détermination sexuelle et biologique. Elle propose de les remplacer par les termes d'identité de genre. La scène CDH rappelle que « S'affirmer homme ou femme n'est pas une question de choix ni de volonté et ne relève pas d'une décision arbitraire, conjoncturelle ou fantasmatique. Cette affirmation est au contraire liée à une conviction profonde souvent ressentie depuis l'enfance ne relevant pas d'une identification passagère mais bien de l'identité même du sujet. » Comment un groupe si minoritaire peut ainsi décréter avec une facilité déconcertante la soumission d'une société millénaire à un véritable changement de civilisation ? Comment peut-on demander à la majorité des Français de courber les Chines et de changer de modèle de société alors que nous n'avons pas encore réussi à régler tous les problèmes qui se posent à nos sociétés traditionnelles ? Quel est donc l'intérêt de créer de nouveaux problèmes et de nouveaux heurts en propageant et en imposant par la force cette théorie du genre ? Enfin, pour conclure, je voudrais dire que nous, homosexuels, nous en avons assez de nous faire veler notre voix. Partout, en Italie, en France et en Europe, il y a des homosexuels qui sont prêts à se lever pour dire que le lobby gay ne représente en rien l'ensemble des homosexuels. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ont peur de la violence de la LGBT. La LGBT résume les homosexuels par rapport à une identité sexuelle, ce qui est blessant et insultant. La LGBT, en réclamant des droits que les homosexuels ne réclament pas, nous enferme dans une catégorie de personnes particulières au sein même de l'humanité, ce qui crée une inégalité de fait. Nous voulons être reconnus en droit pour ce que nous sommes des hommes et des femmes et non en fonction de notre orientation sexuelle qui relève de notre vie privée. Nous refusons que notre choix sexuel devienne l'expression d'une loi imposée à tous. Voilà, mes très chers amis, le modeste message que je souhaitais vous délivrer en ce jour. La prétendue liberté que réclament certains ne doit pas condamner l'homme et sa diversité. Le droit à la différence doit rester l'unique liberté de l'être humain. La nature et elle seule est là pour y veiller. Ce qui nous réunit aujourd'hui tous ensemble, ce sont les valeurs fondamentales qui nous rattachent à la famille car la famille est une et universelle. Ce sont les questions de l'enfant et les homosexuels sont des personnes et des citoyens responsables. Ils ont pleinement conscience que leur manque d'enfant ne doit pas avoir pour conséquence de priver un enfant de l'affection d'une mère, qu'un enfant n'est pas un médicament pour personnes de même sexe en mal d'amour. Pour le devenir de la famille et de l'enfant, nous, citoyens, italiens ou français, hommes et femmes de raison, que nous soyons homosexuels ou hétérosexuels, poursuivons et poursuivrons notre droit chemin, celui d'êtres humains responsables qui veulent laisser derrière eux une planète où l'homme avec un grand H ne devient pas une valeur marchande. Grazie, tutti, tutti, et l'on ne lâche rien jamais, 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 mai, mai, mai. Allora, torniamo in Italia e in Italia da ormai bel po' di tempo appreso le mosse il comitato sia la famiglia come ricordava stamattina Massimo e un comitato a cui aderiscono le associazioni ciascuna delle quali mantiene la propria autonomia e la propria identità e ha obiettivi connessi e coerenti con la materia. Uno degli esponenti di questo comitato è l'avvocato Giancarlo Ciavelli che tutti noi conosciamo molto amico e molto apprezzato da parte della lobby LGBT e anche dai riferimenti di questa lobby in alcuni mass media a cominciare dalla RAI e lo ringrazio per essere qui e lo prego di stare nei dieci minuti grazie Alfredo buonasera a tutti voi e come diceva in premessa l'amico Alfredo Mantovano bisogna fronteggiare una strategia delle associazioni LGBT UQA e cambiare questa la struttura queste associazioni mirano e non voglio entrare solo una brevissima premessa mirano a cambiare la struttura della nostra società e come diceva l'amico Alfredo Mantovano questa strategia è complessa è complessa è un'azione complessa quella di queste associazioni LGBT e allora ci chiediamo cosa fare ecco non dobbiamo cedere alla tentazione di essere cattolici da salotto è necessario coordinare e sensibilizzare il popolo della famiglia è necessario quindi come vi dicevo un coordinamento della nostra azione camminare in ordine sparso non ci consente di attuare una azione forte ed efficace e si rischia e così rischiamo l'irrilevanza sociale è necessaria quindi una strategia comune coordinata che contrasti l'azione delle forti lobby LGBT io dico sempre uniti si vince e quindi dobbiamo fare rete e sì alla famiglia questo comitato che è nato da sta nascendo diciamo in questi in questi giorni ormai da qualche mese che in ogni caso sta operando anche se formalmente in queste ore si sta costituendo intende rispondere a questa esigenza di fare rete come diceva Alfredo Mantovano il comitato sia la famiglia ha come referenti le associazioni quindi non è composto da singole persone ma da associazioni è un cartello di associazioni che mantengono la loro identità e quindi anche la loro operatività però ecco sì alla famiglia intende coordinare ecco l'attività e quindi una strategia comune e allora cosa vuole fare in realtà sì alla famiglia quali sono i tre obiettivi che intende perseguire primo propiziare una più frequente presenza pubblica e quindi moltiplicando convegni convegni come questi ma come tanti che si svolgono in varie parti d'Italia e anche iniziative di piazza in stretto accordo anche con le altre associazioni che operano in tal senso come per esempio le sentinelle in piedi la Manif Portus i cui rappresentanti sono seduti a questo tavolo ed è importante notare come sia la famiglia ha già avuto esperienze di convegni e anche discese in piazza mi piace ricordare per esempio quella che è stata fatta a Crotone Crotone centro della Calabria un centro provincia della Calabria si è pensato di scendere in piazza contro la legge anti-omofobia e contro i registri delle unioni civili che il comune sta per approvare il 12 dicembre il comitato sia la famiglia ha riunito 22 associazioni cattoliche siamo scesi in piazza eravamo circa un migliaio e dopo questa manifestazione che quindi ha avuto un buon successo ci siamo recati in cattedrale dove con una fiaccolata ci ha accolto il vescovo che ha benedetto la manifestazione ma ci sono state iniziative analoghe anche a Torino a legge che hanno avuto un esito molto felice con tantissime associazioni che hanno aderito e queste manifestazioni hanno avuto un grande successo anche di far prendere consapevolezza a chi non conosceva praticamente nulla di questa problematica dell'urgenza di mettersi in moto e di non essere cattolici da salotto e allora quello che sia la famiglia intende fare è proprio procedere ad una sensibilizzazione del nostro prossimo come primo obiettivo e a me capita spesso quando termino un intervento in varie parti nelle parti in cui sono chiamato in italiano mi si avvicinano e dicono ma cosa dobbiamo fare concretamente ecco quindi c'è la voglia di una volta conosciuto il problema di andare e agire per contrastare l'azione forte potente delle lobby LGBT e allora è necessario diventare missionari del buonsenso e non si ferma qui però l'azione del comitato sia la famiglia ha un altro obiettivo che riteniamo molto importante abbiamo creato stiamo creando una rete di giuristi una rete di giuristi in tutta Italia che concretamente porti assistenza anche solo in termine di consulenza quindi soltanto in via residuale procedendo con delle azioni legali vere e proprie a favore dei dirigenti scolastici a favore di docenti a favore di genitori a favore degli studenti che vivono quelle condizioni di disagio a fronte della imposizione nelle scuole di questa ideologia del gender e quindi per contrastare e dare consigli quindi consulenza a chi ce la chiede ed essere pronti e non lasciare sole le persone che si sentono a volte smarrite quante telefonate ricevo ricevono anche i miei amici e dicono ma cosa dobbiamo fare in questa situazione ecco questa rete di giuristi intende rispondere a questa esigenza ma non solo questa rete di giuristi intende anche fornire eventuale consulenza ai parlamentari perché ad esempio parlamentari che vogliono collaborare con sia la famiglia possono fruire della consulenza anche giuridica ad esempio commento a qualche sentenza uscita diciamo di recente oppure essere aggiornati sulla legislazione sulla giurisprudenza europea ma anche italiana che a volte per il tanto da fare a volte può sfuggire a qualche parlamentare quindi questo è il secondo obiettivo del del comitato sia la famiglia terzo obiettivo non meno importante è la sottoposizione a coloro che si candidano per ogni tipo di consultazione elettorale cominciando dalle elezioni europee quindi anche quelle nazionali regionali provinciali comunali di sottoscrivere un atto di impegno che se eletti ecco promettono di orientare le proprie scelte politiche naturalmente a seconda del proprio ambito circoscritto al proprio ambito in tema di famiglia in coerenza con i contenuti di sì alla famiglia e allora per chiudere questo mio intervento cosa fare per aderire a sì alla famiglia ecco cosa fare fattivamente allora innanzitutto prendere contatto e leggere il manifesto di cui ha tracciato qualche qualcosa il dottor Alfredo Mantovano potete andare sul sito www.sialafamiglia.it lì troverete il manifesto e anche le modalità per costituire un comitato nella vostra città e poi costituire quindi comitati sì alla famiglia per perseguire i fini che abbiamo finora detto tengo a dire per ultimo che il sito sì alla famiglia è inserito tra le associazioni laicali che si occupano di famiglia del pontificio consiglio per la famiglia quindi credo che questo per il momento basti per indurvi a costituire comitati sì alla famiglia per difendere questo istituto che è la struttura fondamentale della nostra società e che aiuta sicuramente a creare e a mantenere una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio grazie grazie all'avvocato Cerrelli vorrei approfittare per salutare e ringraziare alcune autorità amici che ci hanno raggiunto in questa seconda parte del convegno il prefetto Sandra Sarti che vice capo di gabinetto del ministero dell'interno l'amica Monica Mondo prima che se ne vada grazie per essere stata con noi e il presidente di sezione della Corte di Cassazione Mario Cicala torniamo ai lavori il forum delle associazioni familiari svolge da decenni un'opera preziosa un'opera che punta a dare un costante aggiornamento sullo stato delle tematiche familiari non soltanto sul territorio nazionale ma anche nell'ambito delle regioni e che promuove un confronto con i parlamenti nazionali parlamentari europei i consigli e le giunte regionali abbiamo il piacere e l'onore di avere tra noi il presidente nazionale del forum e lo ringraziamo non solo per essere qui tra noi ma per l'opera preziosa che il forum svolge e soprattutto per il tratto costantemente propositivo del suo lavoro non sempre queste proposte poi vengono accolte ma il fatto che siano presentate in modo dettagliato in modo ragionato così come meriterebbe di essere fatta qualsiasi proposta quindi indicando per esempio se ci sono impegni di spesa anche eventuali ipotesi di copertura sottolinea la serietà del forum stesso e la sua insostituibilità per l'Italia in questo momento grazie a lei presidente grazie dell'invito insomma abbiamo fatto bene a partire dall'ascolto di una buona pratica nel senso che l'esperienza della Croazia ci dice prima di tutto che si può fare e poi che l'Europa dei popoli ha ancora qualche chance rispetto a un'Europa burocratica un'Europa controllata dall'alto e quindi questo c'è da imparare e una delle questioni che mi mette più che mi dà qualche problematicità da portare indietro è l'indicazione nettissima che ci hanno detto noi abbiamo chiesto una e una sola cosa l'identità del matrimonio e questo rispetto al lavoro fatto in questi anni dal forum delle associazioni familiari è ovviamente una delle sfide perché noi siamo progressivamente costretti a tenere botta su tutte le vertenze collegate al familiare nella nostra società noi ci occupiamo di sistema scolastico ci occupiamo di welfare perché la gran sfida ancora da cogliere in questo paese è costruire un paese a misura di famiglia e riguarda le infrastrutture sociali il fisco a misura di famiglia il lavoro a misura di famiglia e la questione come dire identitaria della famiglia che è poi quella che per esempio ha catalizzato anche momenti importanti della storia del forum sarebbe come da dare per scontata come facciamo in questa tavola rotonda in un paese normale o meglio in una situazione normale perché in questo caso non c'è un'anomalia italiana rispetto a quest'idea che la famiglia sia tutto il contrario di tutto quindi dico che oggi io se questa settimana devo scegliere di fare un comunicato stampa sono costantemente costretto a scegliere se devo fare un intervento sulla legge di stabilità sul cuneo fiscale oppure sulle azioni della LGBT all'interno della scuola eccetera questo lo metto come dire il frutto di una storia ma anche una problematicità nel nostro lavoro di presenza culturale e anche di azione di rappresentanza del valore famiglia leggo una breve citazione la tutela e la promozione della famiglia fondata sul matrimonio stanno perdendo terreno la vita è minacciata da una cultura della morte che già da anni dilaga nel nostro paese e tutto questo senza che ci sia una reale profonda presa di coscienza dei cattolici e degli uomini di buona volontà si tratta ora di non cedere alle lusinghe di una cultura che riduce al minimo la famiglia è che in nome di un malinteso progresso scientifico riduce gli esseri umani a un mezzo e non a un fine si tratta di non cedere e noi siamo pronti a fare la nostra parte in questo anno denso di appuntamenti cruciali e che vedrà il prevalere o la sconfitta di una cultura della vita e della famiglia di cui vogliamo essere interpreti e testimoni spero si sia capito leggere sempre un po' complicato l'anno di questa di cui si parla è il 2005 e questo è un testo firmato da Luisa Santolini su famiglia cristiana subito prima la campagna del referendum della procreazione assistita il 2005 due anni prima del Family Day quindi di fatto se lo pronunciassimo come descrittivo della situazione attuale siamo nella stessa situazione sono successe tante cose alcune buone come il Family Day altre molto preoccupanti come questa improvvisa accelerazione anche nel nostro paese di questa pressione della ideologia del genere apprezzo molto la precisazione che ci è arrivata dalla Francia non teoria ma ideologia questo ci aiuta ci dà anche un linguaggio più preciso dico un'altra cosa che viene dall'esperienza croata la differenza tra opinione pubblica e opinione pubblicata cioè l'opinione pubblica è quello che pensa davvero la gente l'opinione pubblicata è quella che ci viene raccontata anche da noi è così cioè il linguaggio se facciamo le stesse statistiche su chi è a favore contro i nostri temi troviamo una assoluta prevalenza di una ideologia antifamiliare se andiamo a verificare con la gente troviamo ancora una certa resistenza non è così forte come in Croazia secondo me nel nostro paese il cosiddetto senso comune anche il senso comune traballa nel nostro paese però c'è questo problema della spirale del silenzio cioè visto che tutti dicono che questa cultura della famiglia è una roba andata anche chi ci crede non lo dice più perché non solo per paura ma proprio per sfiducia allora il compito e il come dire la dimensione provvidenziale di questi periodi è anche il fatto che tanta gente ha cominciato a non stare zitta e si è messa in campo e questo a tutti i livelli dal singolo genitore nella singola scuola quando ha di fronte le offerte formative della LGBT alle grandi associazioni nazionali o a tutta questa effervescenza di iniziative che stiamo cercando di costruire quindi direi che tutto possiamo fare meno che stare zitti un'altra cosa che ieri abbiamo pubblicato un intervento del forum sul tema specifico della scuola e l'idea era niente su di noi senza di noi che era lo slogan dei disabili dal 2000 in qua cioè tutto ciò che viene fatto sulle famiglie e soprattutto niente sui nostri figli senza di noi perché qui si innesca un nervo scoperto delle nostre famiglie su cui la reazione è immediata quindi e devo dire che noi ci siamo mobilitati molto più vibratamente sul tema della scuola perché corrisponde a sentire comune ma la strategia dell'UNAR è in campo nelle carceri nei servizi sociosanitari rispetto ai giornalisti non so se vi ricordate ma la prima azione è stato un codice deontologico politicamente corretto che è stato mandato ai giornalisti i quali però subito hanno fatto muovere l'ordine dei giornalisti che in termini molto corporativi ha detto noi facciamo i giornalisti voi state a casa vostra ecco il popolo delle famiglie non se lo può permettere quindi su questo non abbiamo protezioni corporative vetero sindacali come hanno i giornalisti abbiamo bisogno di essere cittadini attivi quindi questo è un fronte assoluto di mobilitazione e devo dire spassionatamente rispetto a quello che sta succedendo in questi mesi grazie al cielo ci sono cose diverse dal forum che si muovono il problema non è mantenere la gelosia o la titolarità o il monopolio di certe vertenze è evidente che mi ha fatto piacere andare a Milano con le sentinelle mi ha fatto piacere andare a Roma con la Manif faremo qualcosa insieme con questo nuovo coordinamento che propone metodologie strumenti che in fondo per me è come dire sinceramente un déjà vu cioè pensare a un manifesto noi la settimana prossima la Fafese presenterà un manifesto per una piattaforma europea per tutte le nazioni in vista delle elezioni europee quindi questa dinamica del andare a ragionare con i politici è importante devo dire sulla nostra esperienza che effettivamente hanno bisogno di una società civile che si faccia sentire magari saremo anche scomodi li andiamo a sfidare li andiamo a destabilizzare però sanno sostenendo le nostre posizioni che c'è un mondo che rischiano di non vedere quindi mobilitare le famiglie è necessario mobilitare diciamo interagire con il sistema dei media molto complicato interagire con chi ha responsabilità politiche e tra l'altro responsabilità politiche anche quelli che non c'entrano niente perché questa vicenda dei registri comunali delle unioni civili è uno scandalo amministrativo è una grande dispersione di energie di soldi pubblici per un niente per una questione che non è loro titolarità che costruisce cose che solo a Milano hanno avuto consistenza numerica ma in quasi tutti gli altri comuni sono state oggettivamente irrilevanti quindi è proprio una battaglia contro l'ideologia e l'ultima parola che mi viene in mente nei miei appunti di preparazione rispetto a questo tema è un'attenzione alla nostra modalità comunicativa e di interazione con questo grande sistema di comunicazione con il nostro chiamiamolo interlocutore preferisco non usare potremmo dire avversario certamente non nemico ma oggettivamente e la testimonianza francese è stata molto chiara in questo siamo di fronte a un'espressione di fondamentalismo radicale che spesso è come dire è inconsistente anche di fronte a un intero sistema che che non appartiene al pianeta famiglia cioè questa radicalità della LGBT che ha sfondato qualunque confine e che pretende di sovra rappresentare presunti diritti di pochi alla faccia dei reali diritti di tutti sta travolgendo anche soggetti che se fossero capaci di ragionare contro il politicamente corretto si fermerebbero prima quindi per me la questione è riuscire faccio un esempio concreto a parlare con i 150 rappresentanti del movimento 5 stelle che ci sono in Parlamento che sembrano tutti apparentemente allineati e radicalmente convinti di questa strategia per spiegargli che i diritti individuali delle persone sono un'altra cosa rispetto al tema dell'identità della famiglia e che se si fanno ingannare da questi pochi fondamentalisti con tanti strumenti e con forte determinazione e anche con una lunga preparazione in campo questo è improponibile e l'impressione che ho in termini un po' ottimistici è che se riusciamo a spacchettare la questione riusciamo anche a sfilare da un ipotetico schier perché i numeri si dice 120 parlamentari potrebbero votare sulle nostre posizioni tutti gli altri starebbero da un'altra parte ma non è vero dobbiamo trovare gli spiragli di ragionevolezza ha parlato uomini di ragione ha detto dalla Francia per dare buone ragioni per dire guardate che siete fuori di testa con questa posizione siete irragionevoli nei confronti dell'umano e infatti quello che c'è in gioco è il confronto tra un uomo naturale tra una famiglia naturale valore costituzionale per il paese Italia e un uomo artificiale cioè un uomo genicamente modificato che è l'ideale di fondo del cyber manifesto ed è l'ideale di fondo di questa cultura vogliono mettere le mani sulla vita non accettano il dato di realtà e in questo noi combatteremo fino alla fine perché questa è la reale difesa dell'umano ringrazio il presidente Belletti do una comunicazione mi è stato che sto ridare è stato trovato un anello con una spirale in nero chi lo ha smarrito può chiederlo fuori dalla sala alle ragazze che si trovano a ricevimento allora tra le iniziative che ci sono state in questi mesi sono più volte ricordato ci sono quelle soprattutto in piazza in luoghi pubblici della manifra italiana e delle sentinelle in piedi adesso prima l'uno e poi l'altra ci diranno qual è la loro esperienza le loro modalità di manifestazione e siamo molto contenti che siano qui io prego di prendere la parola alla postavoce in Italia della Manif Portus Filippo Savarese grazie allora intanto anche io ringrazio l'Alleanza Cattolica per questo invito per questa occasione importantissima di condivisione ed evidentemente per aver fatto partecipe in modo così generoso la Manif Portus Italia associazione noi diciamo di coscienze che nasce all'inizio del 2012 quando una manciata di giovani ragazzi romani entrano in contatto e conoscono alcuni dei responsabili della Manif francese e come tutti noi penso come tutti coloro che hanno a cuore i nostri scopi rimangono estasiati da questo clima che la Manif Portus francese ha rinnovato soprattutto in Europa e pensano di portare trasportare questa stessa matrice questa peculiarità della Manif Portus francese anche in Italia con l'aiuto soprattutto di Luca Volontè che avete sentito citato prima Jacopo Coghe l'attuale presidente della Manif Portus Italia inizia a cercare aiuti a cercare collaborazioni per fare cosa? Non certo e non già per introdurre nel panorama italiano un elemento che nel merito sicuramente già è fortemente presente e credo che questa esperienza di oggi ne sia una clamorosa testimonianza cioè la partecipazione e la presenza sullo scenario culturale sociale di tante forme di associazioni di tante esperienze che hanno a cuore la famiglia ma soprattutto per introdurre un dato un principio che forse ogni tanto rischiamo di tenere in secondo piano e cioè il grande valore dato dalla Manif Portus che ha scelto come stesso nome come stesso simbolo il fatto di essere Purtus per tutti cioè il principio è quello che non importa che cosa tu hai edificato nella tua vita culturale nella tua vita personale nella tua esperienza religiosa o politica sopra un insieme di fondamenta che ci rendono comuni in quanto uomini e per questo la Manif Portus ha avuto anche grande risonanza mediatica e ha lasciato anche molto spesso alle vita una certa parte che non credeva possibile un simile coagulo di forze sociali da zini popolari socialisti cattolici ebrei musulmani atei anticlericali e soprattutto lo voglio dire quello che ha più sconvolto in Francia omosessuali persone omosessuali che si univano a queste fiumane di persone per difendere i diritti della famiglia per riaffermare l'identità del matrimonio e soprattutto i diritti dei minori questo ha veramente spezzato quegli schemi che ha confuso quelle trincee su cui spesso si rischia di incagliarsi quando si tratta di questi argomenti prima l'avvocato Cerrelli diceva una cosa molto giusta e molto vera cioè che non possiamo permetterci di essere solo cattolici da salotto ecco noi siamo nati anche per dire che non possiamo assolutamente permetterci di essere solo cattolici perché c'è tutta una grande parte di società che lo sappiamo anche guardando la realtà diciamo così sociale e sociologica del nostro paese non è nel circolo delle associazioni dei movimenti eppure sono genitori che hanno dei figli sono persone che credono hanno una certa idea di consapevolezza esperienza dell'umano e si riconoscono in questo grande patrimonio antropologico questo diciamo è il settore della società i nostri destinatari andiamo tra virgolette a cercarli soprattutto sui social network quindi facebook twitter abbiamo quasi 15.000 seguaci su amici su facebook abbiamo un database di mail che va sempre più aggiornandosi ecco questo è il nostro scopo che cosa abbiamo fatto finora evidentemente quando abbiamo portato l'esperienza della Manif Kurtus in Italia noi ci siamo trovati per così dire in vantaggio rispetto agli amici francesi che forse loro stessi dicono si sono svegliati un po' tardi cioè quando la proposta di legge sui matrimoni omosessuali era praticamente già cosa fatta noi in Italia da questo punto di vista abbiamo un lieve e un leggero vantaggio abbiamo trovato sulla nostra strada come primo obiettivo evidentemente quello di informare sulla natura di questa iniziativa ideologica della legge cosiddetta anti-omofobia per questo d'estate l'estate scorsa abbiamo fatto tre manifestazioni in cui abbiamo raccolto alcune centinaia di persone a piazza di pietra piazza del pantheon appena nati praticamente quindi poi d'estate perché lo sapete la particolarità di questa iniziativa sull'omofobia è che viene sempre discussa dal Parlamento in momenti diciamo assolutamente anonimi o d'estate o in sedute notturne al senato sapete che andrà in discussione il 22 luglio noi che pensavamo di fare una grande manifestazione prima di questa di questa data prima che la data fosse decisa abbiamo pensato che probabilmente non sarà il caso dunque dopo queste manifestazioni ci siamo anche noi un po' strutturati abbiamo incominciato a capire cosa volevamo fare sempre con l'aiuto del Manif Curtis francese abbiamo incominciato ad attivare dei circoli territoriali oggi se ne contano quasi 40 che cosa fanno questi circoli noi pensiamo che la cosa più importante da fare oggi sia informare oltre che manifestare informare tantissime persone che non sanno assolutamente nulla di tutto quello che sta accadendo di tutto quello che sta accadendo molto spesso ai loro figli nelle scuole in cui rimandano dunque noi facciamo degli incontri che si svolgono in questo modo ci sono tre a parte un rappresentante della Manif li facciamo nelle parrocchie quando ci chiamano nelle sale una prima parte giuridica sulla questione del disegno della geomofobia una parte psicologica dal punto che diciamo approfondisce il profilo psicologico delle teorie di genere e poi un invito alla partecipazione attiva in questa importante sfida ne abbiamo fatte molte a Roma se ne faranno prossimamente giorni che verranno a Perugia Milano e in questo modo noi cerchiamo di creare consapevolezza in queste persone che appunto come dicevo prima non gravitano ancora in un qualche tipo di circuito associativo e da questo punto di vista noi abbiamo tratto dei frutti più interessanti cioè andare a cercare le persone su quella base antropologica che ci accomuna abbiamo poi sponsorizzato la presentazione di alcuni libri con cui non abbiamo evidentemente nulla a che fare dal punto di vista editoriale vorrei consigliarvene due approfitto uno è educare al femminile e al maschile di Scichitano Cantelmi che appunto tratta e smonta distrugge qualsiasi speranza di validità delle teorie di genere dal punto di vista rigorosamente scientifico sono uno professore uno dottore psicologo di psicologia e poi forse ne avrete sentito parlare voglio la mamma di Mario Adinolfi questa personalità del mondo politico che ha contribuito e noi gliene siamo grati a anche qui incrinare quella mentalità che vuole contrapposta una parte politica all'altra una religione all'altra o una religione e una filosofia su questi temi così importanti perché ha scritto questo libro voglio la mamma in cui in una serie di capitoli rivendica il fatto che contestare la distruzione attuale della famiglia contestare la negazione attuale dei diritti dei fanciulli sia un patrimonio proprio della sinistra e poi ci stiamo specializzando anche noi nell'intervento nelle scuole ovvero riceviamo anche noi come abbiamo sentito anche dagli altri relatori tantissime comunicazioni di persone che ci scrivono mail inviandoci i POF i piani dell'offerta formativa delle scuole per sapere se per caso lì sono nascoste in qualche modo delle parole che possono far pensare che la scuola stia cercando di indottrinare i loro figli allora con il forum delle associazioni familiari dell'Umbria e il suo presidente Simone Pilon abbiamo diffuso questo vademecum per genitori che in 12 punti dà un sostegno un aiuto per chi volesse sapere praticamente che cosa fare che poi alla fine è il ruolo del genitore quello essenziale che è quello di muoversi parlare con i professori sapere di che cosa si tratta voglio dire soltanto un'ultima cosa noi oggi la maggior parte di questi attacchi nei confronti della famiglia sia anche a livello locale non so se avete saputo recentemente la commissione scuola del comune di Roma ha discusso in via preventiva una delibera che era stata proposta per incentivare la collaborazione delle famiglie e delle scuole in materia di educazione sessuale una cosa da cui non ci sarebbe neanche il bisogno di discutere perché è un principio quello della libertà della scelta educativa come abbiamo sentito è un principio costituzionale la delibera in via preventiva in via consultiva è stata bocciata e rispinta ma la motivazione è stata rispinta perché metterebbe oltre al fatto che è retrograda come ha detto l'esponente Grillina metterebbe in dubbio la libertà di insegnamento dei docenti quindi della scuola quindi dell'amministrazione che sceglie le associazioni che educano per così dire i ragazzi alla sessualità all'affettività ecco noi crediamo che questa sia la vera sfida per difendere la famiglia oggi oltre a tante altre quella di difendere la libertà di educazione perché la libertà di educazione è sempre stata il tramite che ha fatto anche progredire nel corso del tempo tra una generazione e l'altra questi buoni valori se tagliamo se si incide negativamente sulla libertà di educazione si taglia il flusso che va da un genitore al figlio quindi il genitore è impossibilitato almeno a depositare nella storia del figlio nella sua esistenza i valori antropologici di cui noi stiamo parlando quindi questa secondo noi è la vera sfida anche per questo diciamo contattiamo scuole e genitori su queste tematiche grazie 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 a Filippo Savarese oltre ai titoli di cui ha raccomandato la lettura sono veramente dei libri che meritano di essere tenuti sempre sotto mano e sono molto utili raccomando di non perdere di vista anche i libri che sono nel tavolino in fondo alla sala tra cui il recentissimo è uscito da poche ore testo di Massimo in Trovigne delitto proprio sia alla famiglia a tutto il lavoro che è stato fatto finora alle basi di questo lavoro e a come continuare a svolgerlo e tra come continuare a svolgerlo una parte significativa che compete certamente a sentinelle in piedi di cui per i pochi che non conoscono ancora che cos'è e come funziona ci verrà descritta le premesse e le modalità operative da Raffaella Frullone grazie grazie innanzitutto per questo invito quello di cui vi vorrei parlare questa sera è che c'è un popolo che negli ultimi nove mesi ha preso letteralmente posto nelle piazze si è piazzato di fronte agli occhi di tutti di fronte agli occhi della politica di fronte agli occhi della società di fronte anche agli occhi dei mass media che pensavano speravano e volevano far finta che noi non esistessimo è un popolo di cui fino a nove mesi fa su cui nessuno avrebbe scommesso un euro un popolo formato da persone mamme papà disoccupati professionisti gente normalissima che non era assolutamente abituata a scendere in piazza e mai avrebbe pensato di aver bisogno di farlo è un popolo che ad un certo punto dello scorso anno è iniziato a fremere un popolo a cui non bastava più la formazione non bastava più incontrarsi per parlare per discutere non bastava neanche l'informazione e neanche fare contro informazione occorreva farsi vedere per farsi sentire occorreva incidere su quell'opinione pubblica di cui parlava prima Francesco Belletti per dire che non è tutto liscio così come stava passando e che non si poteva accettare un'imposizione di una teoria la teoria di genere di cui abbiamo parlato adesso e che ci venisse insomma propinata nel silenzio attraverso un progetto di legge il DDL Scalfarotto che ha dato la miccia ad un gruppo di persone per partire per farsi vedere e per dire no io ho partecipato alla prima microveglia milanese lo scorso maggio eravamo in sette sotto una pioggia battente il che avrebbe scoraggiato penso chiunque ma tra quelle sette persone tre hanno iniziato a mobilitarsi a dire vabbè se da zero eravamo in sette forse possiamo aumentare la prima veglia strutturata delle sentinelle in piedi è avvenuta il 5 di agosto dello scorso anno il 5 di agosto è stato il giorno in cui la legge Scalfarotto ha iniziato il suo percorso alla camera in una chattata notturna un gruppo di papà strappando tempo al sonno e gli impegni familiari al lavoro ha deciso che non si poteva più stare nascosti e ha organizzato questa veglia non senza paura e qualche timore per il giorno successivo pensando di essere in 10-20 erano in 60 quello che si è scatenato dopo è stato uno strepitoso effetto domino sono partite Bergamo e Milano e da quel momento in poi tantissime città vedendo le foto in rete conoscendo il movimento tantissime persone hanno preso coraggio hanno voluto organizzare veglia nelle proprie città oggi le sentinelle in piedi possono contare al loro attivo 46 veglie organizzate da agosto a oggi ci sono 60 città attive in questo momento che stanno organizzando per scendere in piazza sono numeri che hanno dello straordinario perché ad ogni nostra veglia partecipano centinaia di persone lo scorso febbraio a Milano eravamo 1500 ci sono state veglie da 500 da 600 persone non sono numeri che diamo come li stessimo dando alla stampa per far vedere che abbiamo avuto dei risultati sono numeri dietro i quali ci sono delle storie ci sono delle persone che perdono tempo e denaro e investono energie per una causa che ci riguarda tutti quanti non è banale pensare che in una veglia invernale a Cremona ci siano persone disabili che stanno per un'ora ferme a vegliare ci sono persone ultraottantenni mamme che portano i bambini sono persone che investono tempo non solo nel vegliare ma che investono tempo soprattutto nella vita per vegliare su quello che sta accadendo noi sentinelle in piedi siamo una rete venuta a galla in un terreno insomma che già aspettava aspettava soltanto il là per farsi vedere per farsi sentire abbiamo intuito di essere di fronte ad una sfida dalla portata epocale perché va a distruggere quello che più intimo c'è in ogni uomo e in ogni donna per questo in piedi nelle piazze italiane a distanza di un metro l'uno dall'altro e in rigoroso silenzio vegliamo per chiedere la libertà d'espressione e soprattutto la tutela della famiglia naturale fondata sull'unione feconda e stabile tra un uomo ed una donna siamo nate sullo spunto del DDL Scalfarotto insomma abbiamo abbiamo ritenuto che non fosse accettabile per noi rischiare il carcere soltanto per aver espresso liberamente la nostra opinione e la libertà d'espressione è stato un tasto che ci ha permesso di entrare in contatto con un mondo davvero variegato e molto diverso alle nostre veglie prendono parte cittadini cattolici naturalmente cittadini musulmani cittadini mormoni cittadini evangelici questo per dire che la libertà d'espressione non conosce assolutamente colore politico non ha appartenenza di movimento ci riguarda e ci interpella tutti uno dei grandi inganni che questa legge porta avanti e non solo questa legge come giustamente è stato detto ma tutte le politiche in generale targate movimenti LGBT che si presentano come paladini e difensori delle persone omosessuali è quello di creare una contrapposizione tra omosessuali e eterosessuali ecco noi diciamo no a questa contrapposizione è una mistificazione è un errore è un falso non è come abbiamo sentito da Jean-Pierre Del Omniar non è l'orientamento sessuale che definisce un individuo è la sua integrità di persona parlare di omosessuali come fossero una categoria da tutelare o da condannare è una cosa che non ci appartiene in alcun modo non tutte le persone con tendenza omosessuale come abbiamo sentito si riconoscono nei diritti rivendicati dagli attivisti LGBT e anche quelli che ci si ritrovano per noi non sono non sono nemici non sono neanche avversari sono persone che a loro volta dobbiamo cercare di aprire gli occhi e risvegliare le coscienze se c'è una cosa che non avremmo mai pensato nel corso di questi mesi è proprio di incontrare di venire a contatto con tantissime con tante persone appunto con pulsioni omosessuali che sono venute a vegliare con noi con grande coraggio e anche esponendosi agli scherni degli attivisti LGBT che vengono alle nostre veglie per organizzare delle contramanifestazioni sono persone da cui abbiamo imparato molto perché loro stesse sono state per prime sentinelle e ci raccontano quello che succede all'interno di queste lobby in occasione dell'incontro di oggi uno un ragazzo ci ha scritto un ragazzo che ha solo i 17 anni e ci scrive fino a qualche mese fa credevo di essere gay che detestava un papà gay è un ragazzo che vive in Italia e che è cresciuto con il papà e una serie di compagni del papà purtroppo non c'è il tempo in questo momento di leggere tutta la sua lettera ma siccome l'ha scritta appositamente per questo incontro e sapendo che io oggi venivo qua ve le voglio leggere un piccolo estratto lui dice non ho mai avuto bisogno di fiabe gay ci sono dentro dalla nascita ad una fiaba gay mio padre mi ha sempre insegnato che un genitore non è chi ti genera ma chi ti ama mi ha insegnato che è falso sostenere che un bambino ha bisogno di una mamma mi ha insegnato che quello che conta è l'amore non il sesso del genitore e proprio qui il punto il punto non è se qualsiasi persona etero gay possa o meno essere un bravo genitore non esiste in assoluto il genitore perfetto certo che l'amore è importante ma non è tutto c'è qualcosa di più importante del nutrimento del gioco e che viene prima anche dell'amore sostenere che per un bambino avere un padre o non averlo avere una madre o non averla significa che c'è qualcosa dietro di diverso dal bene ultimo del bambino stesso certo che il bambino si adatterà inconsciamente alla mancanza di una mamma o di un papà ma costringerlo ad adattarsi a causa del desiderio di paternità o paternità di un adulto non lo chiamo amore per questi motivi oggi mi sento impegnato con tutti i miei limiti in una battaglia di verità al fianco di tante persone che ho conosciuto in questi mesi la battaglia contro l'ideologia gender contro i matrimoni gay e per la difesa del diritto di ogni bambino ad avere un papà ed una mamma oggi amo mio padre perché ho capito che anche lui è caduto nella trappola LGBT che ci vorrebbe tutti identici a spese dei più deboli ecco noi in questo momento siamo davanti a quello che abbiamo visto è un vero e proprio processo di dissoluzione che sta distruggendo la parte più intima di un uomo e di una donna cosa fare di fronte a questa situazione da un lato sicuramente sarebbe utile ed è utile formare delle persone dei capi dei leader che possano a loro volta invertire questa tendenza intanto noi come sentinelle in piedi vogliamo subito tentare di ritardare o interrompere questo processo vogliamo risvegliare le coscienze portando le persone in piazza ma soprattutto esortandole a vegliare nella vita di tutti i giorni nelle situazioni in cui si trovano scuola ordini professionali ma anche vita quotidiana perché l'ideologia di genere che ci è stata consegnata goccia dopo goccia ci è entrata dentro e quindi riguarda qualunque persona che potrebbe riguardare qualunque persona che incontriamo noi in questo momento nonostante la stampa che è stata costretta a parlare di noi per le numerose veglie che abbiamo fatto in tantissime città non siamo incasellabili in nulla non siamo un partito non siamo un'associazione non siamo un movimento questo perché perché le persone che vengono con noi a vegliare hanno capito l'importanza per quell'ora della veglia di lasciarsi dietro ogni appartenenza politica associativa di movimento di realtà ci sono tante persone diverse tra noi con cui è necessario in questo momento fare un tratto di strada e non solo possiamo farlo dobbiamo farlo per il bene comune la battaglia per la libertà d'espressione è una battaglia che ci riguarda tutti ci interpella tutti ed è per questo che noi abbiamo apprezzato gli sforzi e abbiamo insomma accolto a braccia aperte qualunque persona ci sia proposta e che abbia con coraggio lasciato appunto dietro ogni simbolo e ogni appartenenza per vegliare con noi in piazza noi vegliamo in silenzio ma questo silenzio si è fatto sentire in maniera decisiva perché a forza di numeri a forza di piazze la stampa è stata costretta a parlare di noi lo stesso Scalfarotto è stato costretto a parlare di noi quantomeno sa che esistiamo e sa che non c'è un'opinione pubblica totalmente d'accordo con le politiche che sta portando avanti non solo lui naturalmente ma tutta la realtà LGBT di cui abbiamo parlato finora ci sentiamo un po' come Davide contro Golia in questo momento noi abbiamo un libro è un segnalibro vediamo nelle piazze appunto con un libro in mano che è il simbolo della formazione continua di cui tutti quanti abbiamo bisogno se questo processo colpisce le tendenze noi vogliamo andare in controtendenza le battaglie come ci hanno insegnato le amiche croate si combattono per essere vinte e quindi in questo momento non ci possiamo permettere di non combattere la battaglia perché questo vuol dire contribuire ad una sconfitta e soprattutto non ci possiamo permettere di continuare a stare nascosti e a stare nelle nostre case a parlare solo tra di noi è il momento veramente di uscire e di andare a interpellare tutti quanti concludo con una notizia che diamo oggi per la prima volta che ci fa molto piacere ci sarà una veglia qui a Roma il prossimo 5 di aprile alle 17 in piazza del Pantheon la prima veglia delle sentinelle in piedi sappiamo che le settimane precedenti alla veglia sono delle settimane importanti perché è il momento della costruzione della rete ci auguriamo davvero che tantissime persone voi tutti possiate partecipare alla nostra veglia e chi non può partecipare sappia naturalmente che quello che conta è partecipare alla rete e quindi essere sentinelle nella vita oltre che in piazza grazie 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 Raffaella se vi trattenete solo un minuto perché vi sarà un saluto conclusivo adesso molto breve del regente vicario nazionale di alleanza territoria Massimo Entrovigne ribadisco quest'ultima informazione per tutti coloro che risiedono a Roma o dintorni e per il passaparola con tutti gli strumenti a disposizione che ci possono essere piazza Pantheon esattamente tra 15 giorni sabato 5 aprile dalle 17 alle 18 con il libro vostro preferito per questo appuntamento io ringrazio veramente di cuore tutti coloro che hanno animato questa tavola rotonda per quello che ci hanno detto per come l'hanno detto anche non ultimo per il rispetto rigoroso dei tempi che ci ha consentito di chiudere all'orario programmato e se posso riassumere soltanto in una battuta il senso di tutti gli interventi che hanno riportato esperienze così differenti come luoghi di provenienza luoghi di impegno e le varie sensibilità che sono emerse forse la frase riassuntiva è che non c'è nulla di ineluttabile non c'è nulla di definito io ho una certa età e ricordo pochi mesi dopo l'elezione al solio pontificio del beato Giovanni Paolo II lo scetticismo in certi casi anche lo sfottò se mi consentirei termine con cui erano accolti i suoi discorsi a respirare in Europa con i due polmoni non solo quello occidentale ma anche quello orientale l'esostazione ad abbattere le barriere l'esostazione a vivere della libertà dei figli di Dio e ricordo che più di uno titolava su giornali che oggi cercano di manipolare le parole dell'attuale Papa che Giovanni Paolo II veniva definito come una persona che non era al passo della storia a distanza di qualche anno il cardinale Biffi nella sua ecasticità ha riassunto bene il concetto è stata la storia che si è messa al passo di Giovanni Paolo II come spesso accade quando quando si hanno ben chiari gli obiettivi e gli strumenti per raggiungere questi obiettivi abbiamo iniziato con un saluto che certamente sarà arrivato al nostro regente nazionale Giovanni Cantoni concludiamo rivolgendogli un saluto molto affettuoso e ricordando proprio a proposito di questo ultimo passaggio il suo insegnamento tra gli altri tra i tanti tra i numerosissimi che ruota attorno ad un concetto espresso dal pontefice Pio XII che invitava ad aver fede nella non definitività della storia ecco Giovanni Cantoni ci ha insegnato a pregare a studiare a vivere a operare avendo fiducia non in noi stessi ma nella grazia di Dio che ci permette di vincere qualsiasi definitività della storia e qualsiasi cosa della storia venga data come malignamente ineluttabile a massimo la conclusione grazie a tutti grazie grazie